Buongiorno, sono Pellegrini Maria Elisabetta e il 7 luglio 2018 ho concluso il mio percorso di studi presso il liceo economico sociale. Allora tale liceo era la novità nell'ambito delle scuole secondarie di secondo grado, tuttavia ciò che mi colpì fu proprio questa sua novità e soprattutto la sua attualità. Infatti analizzando la cultura giuridico-economica nonché sociologica consente di stabilire un rapporto diretto tra gli argomenti studiati in questo liceo e la realtà sociale cui noi ragazzi ci troveremo ad operare. Infatti grazie allo studio di discipline economiche e giuridiche nonché linguistiche, sociali, scientifiche ed umanistiche offre agli studenti una preparazione liceale aggiornata e spendibile in più direzioni. Circa la mia differenza personale a questo liceo economico sociale debbo praticamente tutto, a partire dai miei professori che mi hanno aiutato a raggiungere i livelli a cui sono ora e a diplomarmi con quasi il massimo dei voti. Altresì questo liceo è stata la base della mia carriera universitaria in quanto oggi sono all'ultimo anno di un ramo di giurisprudenza denominato scienze dei servizi giuridici e dico che è stata la base in quanto moltissimi argomenti, soprattutto affrontati in quinto superiore, li ho ritrovati in moltissime materie, penso ad esempio a un diritto costituzionale, a un diritto dell'Unione Europea nonché a un'economia politica. Quindi concludo affermando che la scelta che feci sette anni fa di intraprendere questo percorso di studio presso liceo economico sociale fu una delle scelte migliori, sia per quanto riguarda comunque un piacere personale circa l'ambito del diritto, circa soprattutto i miei professori, che appunto mi hanno risa quella che sono oggi. Concludo accendovi in un po' al lupo per tutto. Ciao a tutti, sono Gianmarco, un ex studente del liceo economico sociale Beata Angela, diplomatomi nell'anno scolastico 2017-2018, quindi tre anni fa, oggi studente di giurisprudenza da Luis di Roma. Perché scegliere il nostro liceo? Beh, soprattutto per quanto riguarda le materie, per quanto riguarda le materie umanistiche, per quanto riguarda materie con cui oggi tutti noi anche indirettamente ci interfacciamo, materie come diritto, materie come economia, che mi hanno aiutato anche a scegliere di proseguire proprio per quella strada, mi hanno aiutato a scegliere che cosa volevo fare. È stata un'esperienza bellissima, è stata un'esperienza coinvolgente, così come anche l'esame finale. Mi dispiace oggi per la situazione che tutti stiamo vivendo. Prima o poi si spera di tornare alla normalità, però sono sicuro che anche in queste condizioni i nostri professori stanno facendo un ottimo lavoro. Faccio un invocato po' a tutti e vi invito vivamente a scegliere questa opportunità, perché è diversa dalle altre e perché sicuramente potrà aprire forse più la mente verso altre prospettive. Grazie a tutti! Ciao a tutti, sono Andrés Peripapagatti, è studente del liceo Frezzi-Biatangela, ho frequentato il socio-economico e sono qui per raccontarvi un po' quella che è stata la mia esperienza. Io ho scelto questo percorso di studi perché progettando il mio futuro era quello che comunque ci vedevo bene per la preparazione di poi quello che volevo fare e devo dire che così è stato perché la mia passione fin da quando ero bambino è stata quella di comunque entrare nelle forze dell'ordine o entrare soprattutto in finanza e non dico che ci sono riuscito perché ancora niente detto, però quello in cui mi dovevo preparare la scuola me lo sono trovato e ora ho altre prove da effettuare però sono prove a carattere diciamo personale perché sia fisico che psicologico quindi la scuola qui si ti può aiutare ma neanche più di tanto quello che dovevo fare l'ha fatto e l'ha fatto bene e nel mentre aspetto questa risposta comunque ho deciso di intraprendere come corso di studi l'Università di Economia Perugia e che dire, essendo socio economico gli studi sono quelli in buona parte e la preparazione è giusta per molte materie, poi per altre c'è un po' più da studiare, ci sono materie nuove però ragazzi progettate sin da subito il vostro futuro, pensateci bene perché è molto importante e se il vostro futuro lo vedete comunque in economia, comunque che vi posso dire in diritto così, questa è la scuola più che giusta. Grazie. 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 Grazie.